Angelo Pecoraro di 33 anni di Sciacca è stato arrestato durante la scorsa notte dalla polizia per aver accoltellato il padre Salvatore di 57. Pecoraro, tossicodipendente a una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine a vari precedenti per lesioni, rissa, rapina, si trovava agli arresti domiciliari per violazione della misura della sorveglianza speciale. In piena notte, per ragioni che gli agenti del commissariato di polizia di Sciacca stanno ancora cercando di verificare, ha accoltellato il padre. È stata la madre di Angelo Pecoraro e moglie dell'accoltellato a chiedere l'intervento della polizia. Quando gli agenti sono arrivati nella casa hanno trovato Salvatore Pecoraro che con la mano cercava di tamponare la fuoriuscita di sangue dallo stomaco. Il fratello minore di Angelo Pecoraro avrebbe cercato di difendere il padre ma senza riuscirci. Salvatore Pecoraro è stato trasportato all'ospedale di Sciacca e sottoposto ad intervento chirurgico per una doppia perforazione dell'intestino. Non è in pericolo di vita. La polizia ha sequestrato il coltello con una lama di circa 20 centimetri con il quale Angelo Pecoraro ha colpito il padre. Grazie a tutti.